Taranto Emergenza Coronavirus, siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Stiamo assistendo ad una giusta campagna di prevenzione, però ora dobbiamo verificare se effettivamente queste misure vengono anche applicate a tutela garanzia dei lavoratori. Dunque Ilva e Arcelor Mittal, ma non solo, abbiamo appreso che questa mattina avete inviato un documento alle direzioni dei supermercati. Facciamo un po' il punto della situazione. Per quanto riguarda Arcelor, credo che è sotto gli occhi di tutti che c'è una difficoltà a gestire una situazione che secondo noi è di rischio molto elevato. Ci sono migliaia di lavoratori diretti e dell'appalto che ogni giorno entrano all'interno di quella fabbrica, sagono sui pullman 50, 60, 70 alla volta, si spogliano non a distanza di sicurezza. Quindi abbiamo sollevato il problema. Stessi armadietti uno accanto all'altro? Sì, noi abbiamo fatto un elenco di cose che secondo noi non si dovrebbero fare e che si continuano a fare all'interno della fabbrica. So che ci sono stati una serie di incontri stamattina e pare che il sindacato unitariamente abbia posto il problema ad Arcelor Mittal, ma fino adesso senza ricavarne nulla. È chiaro che il rischio tangibile è che la fabbrica diventi quasi lo strumento di diffusione. Diventerebbe un lazzaretto, è triste dirlo, ma... Sì, poi lo voglio ricordare, abbiamo lavoratori che vengono un po' da tutta la provincia, tra l'altro ci sono autotasportatori che vengono anche da fuori regione, quindi c'è un mix di situazioni che ci fa pensare che bisogna immediatamente intervenire e le misure che finora ha messo in campo Arcelor Mittal non sono misure che riescono a garantire l'applicazione in tutto il DPCM regionale e nazionale. Voi avete fatto queste rimostranze, queste osservazioni sia ovviamente all'azienda ma penso anche agli organi preposti. Io ho scritto ieri, siamo usciti ieri facendo un appello a Prefetto di Taranto, so che in queste ore sta uscendo un appello unitario, una richiesta di incontro a Prefetto di Taranto sulla questione Arcelor Mittal, la posizione dell'USB è chiarissima, noi abbiamo detto che bisogna limitare al massimo il rischio e lo puoi fare solamente mettendo gli impianti di comandata, quindi ridurre drasticamente il numero di persone, sospendendo le attività delle ditte d'appalto, aprendo la procedura di cassa integrazione che da ieri sembra che sia possibile con una misura straordinaria varata dal governo, e integrare lo stipendio al 100%, cioè le aziende dovranno integrare lo stipendio al 100% ai lavoratori che, lo voglio ricordare, sono vittime e che sono preoccupati perché io riporto una delle tante telefonate di ieri, ci sono lavoratori che hanno tanti figli a casa, ci hanno i figli a casa e giustamente tornano e uno dice che senso ha lasciare i figli a chiuso dentro casa, poi io vado sul posto di lavoro, sono a contatto con altre centinaia di persone, poi ritorno a casa, magari il virus me lo sto portando io, quindi da questo punto di vista, secondo noi, le misure da mettere in campo devono essere misure eccezionali, ecco, per una volta veramente la produzione, come dire, deve essere l'ultima cosa. Quindi abbiamo percepito ovviamente questo stato di paura, di timore, anche di confusione, di disorientamento nei lavoratori? Assolutamente sì, le chiamate che arrivano sono tutte chiamate che sono tese a segnalare situazioni anomale, è chiaro che ci si aspetta una risposta di tipo eccezionale che finora non c'è stata, quindi anche per questo, come dire, le organizzazioni sindacali fanno appello al prefetto per chiarire una volta per tutte se ILVA è zona franca anche rispetto, come dire, alle leggi attuali, quindi si continua secondo questa logica oppure, come dire, si interviene su ILVA, pensando, io lo dico in tutta onestà, l'ILVA è il rischio serio che corre se non si mettono in campo tutta una serie di misure e che possa diventare, come dire, una polveriera? Eh sì, c'è un incrocio di migliaia di lavoratori, un epicentro proprio, che come dire, che vengono dalla provincia, da fuori provincia, quindi... Poi veicolano il virus? Perfetto, e noi su questo diciamo che c'è bisogno di una risposta eccezionale. Io questa mattina notavo in centro che c'erano controlli delle forze dell'ordine presso attività commerciali, anche una del centro è stata chiusa e quindi per carità è giusto applicare le normative, però sembra, come lei ha detto, che, non so, ci sia una quasi una impunità per ILVA, cioè ILVA è la metà nel senso che queste mancanze di applicazioni di misura dovevano essere già sanzionate, cioè l'attenzione, i fari puntati a effettuare i controlli sacrosanti, a maggior ragione dovevano riversarsi lì che l'ILVA, cioè ovviamente aggrega un'area di massima aggregazione di persone, di lavoratori. Quindi voglio dire, tutta questa attenzione che c'è verso i comuni mortali, è giusto che ci sia, ma parimenti deve accadere nei confronti dello stabilimento. Sì, assolutamente sì, si avverte, tu prima hai visto, stavamo qui, hai visto la pattuglia che gira, fermava i cittadini per sapere da dove provenisse, chiede informazioni, ecco, noi ci aspetteremmo che ci sia la stessa attenzione all'interno di quella fabbrica, perché stiamo avvertendo in questo momento tramite il messaggio, le grida di paura di tanti lavoratori che all'interno di quella fabbrica, come dire, si continuano a verificare situazioni che sono ad oggi e al di fuori di quelle che sono le linee guida previste dal Governo della Regione Puglia. Stiamo trattando la questione della sicurezza, la questione coronavirus all'interno di Ilvar-Selormittal, ma parliamo di altri settori che vedono impegnati i lavoratori e il comparto dei supermercati. Parliamo di questo documento che avete inviato questa mattina. Di cosa si tratta? Noi stamattina abbiamo inviato, diciamo, a diverse comunicazioni rispetto ad alcuni settori che secondo noi possono avere delle facili contromisure rispetto al DPCM del Governo, quindi mettere in campo contromisure che possono garantire la prosecuzione dell'attività lavorativa, la garanzia, come dire, che il personale continua a lavorare e che non venga esposto. Penso ai lavoratori del comparto sanità, le cooperative del comparto sanità. Abbiamo inviato una serie di proposte, ma anche ai lavoratori del supermercato. Anche qua abbiamo scritto da alcune aziende le più importanti, dicendo che secondo noi in questo momento bisognerebbe accelerare sulla questione della spesa a domicilio, gratuita. Quindi il paradosso potrebbe essere questo, anche perché da quello che si dice, almeno sono le notizie che girano, che il picco massimo di esposizione ce l'avremo nelle prime settimane di aprile. Quindi il ragionamento è meglio prevenire un attimo prima che poi trovarci in una situazione di difficoltà. Quindi per il supermercato la spesa a domicilio gratuita potrebbe essere l'alternativa per mettere in condizioni chi lavora di non essere a contatto con chi fa la spesa, anche perché abbiamo visto tutte le immagini. Stamattina le farmacie erano strapiene e i supermercati. Io sono uscito stamattina, ho notato questa particolarità, la città deserta però sono pieni supermercati e farmacie. Chiaramente c'è anche un discorso purtroppo di psicosi, di paura, si entra in un tunnel. Sì, scoppia la psicosi, tra l'altro come è scoppiata ieri sera in alcune grandi città come Palermo e Roma in cui sono stati presi d'assalto i supermercati di discount aperti 24 ore su 24. Però da questo punto di vista bisogna far prevalere il buonsenso e mettere in campo una serie di azioni che secondo noi possono tenere insieme le questioni della salute rispettando quelle che sono le linee guida che il governo ci ha dato. Per concludere, Rizzo, forse si sta cercando di chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, nel senso che forse il governo inizialmente ha sottovalutato un po' il problema e non ha preso sin dall'inizio quelle misure drastiche che invece andavano prese e sono state prese. Senti, è preoccupante il numero di casi e la percentuale di mortalità, che in Italia è molto più alta rispetto alla Cina. Secondo paese nel mondo come mortalità? Qualcuno dice che in Italia si fanno un numero ridotto di tamponi rispetto a quelli della Cina e quindi la mortalità più o meno è in linea con quella mondiale. Il punto vero però è quello che dicevi tu prima, cioè anche il ritardo di un solo giorno può comportare come dire, un'esposizione di migliaia e migliaia di persone. Ecco perché continuiamo a ripetere che sulla questione ILVA che per noi oggi è centrale, Arcelor, lì o si interviene a Gambatisa prendendo decisioni estreme, garantendo la salute delle persone o rischio serio che noi parliamo, parliamo e parliamo, facciamo le leggi, facciamo il DPCM, poi apre e chiudo parentesi anche qua sul lavoro, credo che quel DPCM sia proprio monco, non sulla questione dell'attività lavorativa perché basta l'autocertificazione per tutta una serie di elementi che secondo me andavano rafforzati. Il rischio serio è che se non si intervino si fa finta di nulla e noi ci troviamo come dire in una condizione che diventa poi catastrofica e non più gestibile.